carissimi amici bentornati al caffè oggi andiamo avanti con la lettura del novellino stiamo per arrivare alla fine quindi siamo quasi alla conclusione del nostro viaggio qui siamo al capitolo 88 dove si parla di messere castellano da cafferri di mantova podestà di firenze quindi una persona molto molto particolare potente sappiamo nella fase podestarile il podestà viene sempre chiamato da una città straniera quindi da una città esterna rispetto a quella in cui andrà poi a lavorare ed ha ovviamente il potere esecutivo quindi deve governare la città in cui viene chiamato a svolgere le sue funzioni insieme i suoi funzionari a tutti i suoi collaboratori quindi i burocrati funzionari che lo aiutano nel nell'assolvere insomma il suo compito all'interno della città questo castellano da cafferri di mantova però dovrà risolvere una questione che è sorta tra due famiglie siamo a firenze e nacque una questione molto particolare ovviamente serve proprio per suscitare il riso perché come ben sappiamo quando due famiglie nobili litigano c'è sempre poi anche l'elemento così divertente perché le storie vengono sempre portate all'eccesso perché il pubblico ama proprio le questioni le diatribe i litigi le beghe tra nobili e poi ne ride chiaramente perché capisce quanto anche queste persone pur essendo lontanissime da loro essendo così ricche quindi distanti dalla loro vita quotidiana però in fondo provano le stesse emozioni gli stessi sentimenti e quindi poi alla fine si comportano allo stesso modo quindi anche è uno stratagemma per sentirli vicini o comunque per riderne e per prenderli in giro ecco anche qui si parlerà di sesso quindi il tema è sempre a sfondo sessuale sicuramente ricorderemo un po anche le novelle del boccaccio messere castellano da cafferri di mantova essendo podestà di firenze e quindi qui siamo nel 1240 dopo cristo quindi siamo ovviamente nel 200 in pieno basso medioevo a firenze nacque una questione tra messere pepo alamanni e messere cante caponsacchi tale che ne furono a gran minacce e quindi sorse una questione una diatriba talmente violenta una lite così forte che arrivarono addirittura a minacciarsi quindi minacce di morte lo sappiamo spesso i nobili si aspettano per strada nei vicoletti si ammazzano a vicenda se le danno di santa ragione quindi non le mandano di certo a dire ecco il podestà che è la massima carica esecutiva all'epoca dei comuni nella seconda fase quella podestarile che è successiva alla fase consolare chiaramente aveva anche poteri di polizia e potere giudiziario ed è il motivo per cui viene chiamato a risolvere questa diatriba però non aveva né potere legislativo né l'esercito perché appunto non era di sua competenza le due famiglie che vengono citate in questa storia sono gli alamanni e i caponsacchi ecco due famiglie molto importanti quindi stiamo parlando di nobili gli alamanni erano un'antica famiglia nobile di firenze però di origine germanica interessante invece i caponsacchi perché intanto sono citati anche da dante nel sedicesimo canto del paradiso e lui li ricorda perché subirono l'esilio da firenze dopo il 1266 cioè dopo la battaglia di benevento dove alla fine vinsero i guelfi contro i ghibellini ed è proprio per questo motivo essendo invece i caponsacchi una famiglia ghibellina furono ovviamente esiliati dalla città quindi subirono l'esilio e si videro confiscate e distrutte le loro case e i loro beni lo sappiamo perché abbiamo un documento del 1305 ho fatto una breve ricerca e poi non si ebbe più notizia di loro però un ramo della loro famiglia sopravvisse e rimase a firenze però cambiò nome quindi se voi andate a vedere non trovate più da un certo momento in poi i caponsacchi però troverete i salviati quindi un ramo di questa famiglia cambiò nome proprio perché appunto la città poi divenne guelfa cambiò ovviamente schieramento politico e quindi per sopravvivere furono addirittura costretti a cambiare nome quindi un ramo riuscì a sopravvivere si salvò questa famiglia era di origine però fiesolana veniva appunto da lì e divenne poi un'antica famiglia di firenze cosa succede quindi nella nostra storia onde la podestade cioè per cui la il podestà per cessare quella briga quel litigio insomma quella questione che era venuta fuori si li mandò a confini cioè li manda in esilio quindi li punisce in questo modo per risolvere il problema se li leva di torno li manda via se li toglie dei piedi messere pepe mandò in certa parte quindi mandò messer pepe alla manni in un certo posto in un dato luogo che però qui non viene citato e messere cante caponsacchi invece perché era grande suo amico siccome invece era amico del podestà decise di mandarlo a mantova siccome questo castellano da cafferri era di mantova lo manda nella sua città quindi lo esilia ma lo manda presso i suoi parenti i suoi familiari visto che si conoscono gli ordina di andare a casa sua insomma e raccomandò lo a suoi quindi lo manda in famiglia presso persone amiche così spera anche di tenerselo buono magari pensa di fargli un favore in un certo qual modo e messer cante lì ne rendeo tale guidardone gli rese un così grande servizio cioè lo ringraziò a tal punto lo ricompensò per questa sua grande gentilezza il guidardone lo troveremo spesso è termine tipico del 200 termine medievale insomma lo troveremo anche in altri autori quindi lo ricompensò che si giacea con la moglie quindi lo ha ringraziato così tanto alla fine da essere giaciuto poi con sua moglie con la moglie del podestà di Firenze lei era a Mantova e quindi si intrattiene e si trastulla con sua moglie ovviamente qui non c'è niente da imparare o da capire è semplicemente una storia così divertente proprio per così anche stemperare un po' la tensione per deridere questi grandi nobili che erano appunto così distanti dalla vita quotidiana della maggioranza della popolazione e serve quindi per suscitare il riso vedrete che in breve riusciremo poi a finire però dispiace sempre arrivare al termine di un viaggio perché davvero ci ha tenuto compagnia per ben due anni lo abbiamo iniziato in piena pandemia e quindi mi sembra anche giusto insomma concludere entro l'estate e poi faremo anche una riflessione finale se non l'avete ancora fatto iscrivetevi come sempre io vi aspetto alla prossima lezione buona giornata a tutti buona giornata a tutti buona giornata a tutti buona giornata a tutti